Hai mai avuto paura? È la più antica e intensa delle emozioni. I ritrovamenti di animali uccisi sono ormai troppi. Voi non credete all'esistenza della bestia? Non esiste alcuna bestia! Pensano tutti che io sia strano. Ci sono... strani rumori. Queste non sono ferite che può fare a un normale lupo. E la bestia... l'ha fermata. Hai mai avuto paura? È la più antica e intensa delle emozioni. No! No!